Come annunciato in comune c'è stato il summit tra i rappresentanti di RCS, organizzatore del Giro d'Italia e l'amministrazione comunale rappresentata dall'assessore allo sport Rodolfo Salemi. È emersa che la partenza sicura sarà da Torre del Lago, da definire se dal Belvedere o dalla Marina. Però l'amministrazione, dalla bocca anche proprio dell'assessore, ha puntato affinché il tracciato di questa tappa del 9 maggio 2024 possa essere interessata anche la città di Viareggio. Sì, la notizia è che nel centenario della scomparsa di Giacomo Puccini il Giro d'Italia partirà da Torre del Lago Puccini. Dovremmo capire nei prossimi giorni se dal Belvedere Giacomo Puccini è oggetto di riqualificazione in questi mesi o se dalla Marina di Torre del Lago. Però questo è un dato significativo. Il Giro d'Italia parte dal paese di Torre del Lago e ne siamo molto felici dal paese di Giacomo Puccini. L'amministrazione comunale però ha proposto anche che ci sia un passaggio da Viareggio prima di andare verso Pisa dove dopo la carovana partirà per la vera tappa. Esatto, nel giro di un paio di giorni riceveremo la proposta di RCS a quelle che sono state le nostre richieste. Avremo piacere che il Giro d'Italia riesca ad entrare anche nella città di Viareggio prima di partire con la classica carovana che anticipa la vera e propria partenza. Quindi capiremo quale sarà il percorso definitivo nel giro di qualche settimana. Giro bagnato o giro fortunato? Beh, il sopravluogo di quest'anno sì. L'arrivo dell'anno scorso anche. A maggio per tutti gli appassionati invece ci auguriamo una giornata di sole. Grazie. Grazie.